scopriamo se il trattamento che abbiamo fatto ieri con l'ossigeno alle plastiche ingiallite ha dato effetto devo dire che sono uscite più bianche rispetto al giallo quindi ha funzionato ha funzionato andiamo in bagno qui un po meno ma vediamo che ha funzionato anche qui magari vedendo un'altra passata usciranno più bianche ma rispetto a come erano gialle direi che ha funzionato adesso diamo una pulita e magari le diamo un'altra passata questo è il risultato dopo averlo pulito qui possiamo vedere la parte trattata qui la parte non trattata alla fine vedi che qui è giallo mentre qui è bianco e poi è un panna qui si vede un po meno ma prima era così adesso è così ci dobbiamo dare un'altra passata grazie 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 grazie